Radio Radicale, siamo in collegamento con l'On. Virginia Omerola del Partito Democratico, che è stato, come sapete, sindaco di Bologna per parlare del fine vita in Emilia-Romagna. Come sapete, la regione Emilia-Romagna ha votato una delibera di giunta, che però ha provocato tante polemiche. Al centro della polemica è finita la possibilità che questo provvedimento non venga votato dall'Assemblea del Consiglio regionale. Allora, io volevo chiedere a Virginia Omerola se è stupito di tutte queste polemiche che sono state un po' anticipate da quello che è successo con il voto all'Assemblea regionale del Veneto su una legge analoga, in ottemperanza anche un po' alle richieste che ha fatto la Corte Costituzionale in una nota sentenza di qualche anno fa. Sì, intanto ribadisco che sono tra i firmatari della proposta di legge di Cappato. Quello che io credo sia inutile con la polemica è semplicemente questo. La legge si discuterà, oggi va in commissione e seguirà il suo normale iter. Però la novità secondo me positiva della giunta regionale dell'Emilia-Romagna è che si dà immediatamente una risposta a chi fra i cittadini ha bisogno, per quanto riguarda la propria condizione di malattia, di avere dei riferimenti certi. Questa procedura permetterà a tutte le asla dell'Emilia-Romagna di dare una risposta a cittadini che hanno una condizione tale per cui il ricorso alle cure palliative non risolve. Noi sappiamo che le cure palliative, sebbene applicate da un servizio sanitario pubblico di tipo universale, danno molte risposte alle malattie molto gravi. Però sappiamo anche che non risolvono del tutto il tema del suicidio assistito. E quindi nel frattempo che si arrivi alla discussione della proposta di legge io trovo saggio che si sia intervenuti con un provvedimento amministrativo che almeno dà una risposta alla sentenza della Corte Costituzionale. Se poi, come annunciato dalla destra, faranno ricorso rispetto a questa procedura vedremo quale sarà la risposta della magistratura. Ma in questo vuoto legislativo e in questa assoluta non volontà del governo di intervenire con una legge, malgrado una sentenza della Corte Costituzionale c'è almeno un minuto di certezza per quanto riguarda i cittadini dell'Emilia-Romagna. Vi aspettavate tutte queste reazioni? Cioè ritiene che sia stato corretto il procedimento che è stato seguito per questa delibera digiunta che ha provocato tanti malumori? Tra l'altro ho visto anche che l'Associazione Coscioni chiedeva immediatamente un voto che poi ci sarà, tra l'altro. Il voto ci sarà e io penso che sarebbe bene che tutta l'Assemblea regionale lo approvasse, anche quelli che sono iscritti al Partito Democratico che hanno dei problemi di coscienza, perché io ritengo che comunque al di là di quello che uno pensa, penso sia giusto permettere a chi non è credente o non condivide la proposta di legge di permetterlo agli altri. Quello che mi limito a dire al di là delle polemiche è che almeno si è data una risposta a persone che saranno anche minoranze, ma che potranno in Emilia-Romagna cercare di non andare a paghamento all'estero per quelli che se lo possono permettere rispetto a questo tema. Si aspettava la reazione del Cardinal Zuppi su questa scelta? Sappiamo Zuppi che è molto vicino alla vostra realtà. Le volevo chiedere se… Il nostro Cardinale, il Cardinale di Bologna oltre che Presidente della CEI, io penso che sia la posizione della Chiesa, ma detto questo penso che in realtà nessuno voglia non assicurare il diritto alla cura, il diritto alla cura è fondamentale, detto questo ci sono dei casi dove la cura non risolve e quindi io penso che sia invece giusto permettere che delle persone davanti a una malattia dove le cure palliative o la rinuncia semplicemente alla cura, che è una cosa che già si fa, possa avere una risposta rispetto a una condizione di sofferenza e un dolore che è insopprimibile. Purtroppo non sempre è possibile eliminare completamente il dolore fisico dovuto a una condizione di solitudine estrema come capita in questi casi. Inoltre al dolore c'è l'estrema solitudine e l'insopportabilità di una vita senza dignità. Lei che cosa aveva pensato quando aveva visto che la legge in Veneto non era passata per il voto di una consigliera del vostro partito, poi c'erano state anche delle polemiche perché il segretario provinciale di Verona aveva tentato di rimuoverla dal suo ruolo di vice segretario provinciale del PD a Verona? Penso che sia stato un errore, sia stato un errore tentare di rimuoverla. Detto questo io continuo a credere che al di là delle proprie opinioni si dovrebbe permettere di esercitare un diritto anche se non si riconosce in quella posizione. Quindi non condivido. Detto questo ho trovato anche abbastanza grave che rispetto a una differenza di opinione ci fosse chi volesse intervenire con una specie di proverimento disciplinare. Le volevo chiedere se la delibera di giunta è applicabile già da questo momento? Le volevo chiedere se si volesse fare questo tipo di percorso sarebbe già possibile farlo ancora prima del voto del Consiglio regionale? Io credo che la procedura approvata e raggiunta accelererà nelle ASD la possibilità di rispondere. Va formata una commissione di esperti che dovrà dire se il caso rientra nel suicidio assistito o meno, ma è una procedura che si avvia e quindi finalmente ci si potrà rivolgere al servizio pubblico su questo. Il Tar potrebbe intervenire? Il Tar potrebbe intervenire soprattutto sul ricorso della destra del Consiglio regionale. Vedremo se sono fondate le loro opinioni, ma devo dire francamente rispetto alla completa inattività che c'è in questo Paese rispetto a queste persone almeno si cerca di dare una risposta nell'immediato. Poi si arriveranno anche da altre regioni e normalmente così purtroppo nel nostro sistema sanitario. Molte persone vengono da altre regioni. Vuole dire qualcosa sulle reazioni, se se le aspettava, se si attendeva magari un comportamento diverso, rileggendo anche le reazioni che c'erano state per quello che era accaduto in Veneto? Sinceramente no, perché conosco le posizioni di alcuni consiglieri regionali anche del Partito Democratico e del centro-sinistra, così come quella della destra. Io a tutti dico che occorrerebbe una maggiore attenzione a problemi di queste persone che non trovano una risposta nel nostro ordinamento. Si tratta di far rispettare un po', se mi è permesso, anche la legalità. C'è una sentenza d'accordo del Tribunale che dice che il suicidio assistito è compatibile con la nostra Costituzione e chiede che sia fatta una legge, che se necessariamente deve essere una legge nazionale in un paese civile. Certo, io la ringrazio molto della sua disponibilità per averci spiegato un po' che cosa è successo, ringrazio l'On. Virginia Omerola del Partito Democratico con il quale abbiamo parlato della delibera di giunta sul fine vita dell'Emilia Romagna. La ringrazio molto. Grazie a voi, buona serata. Grazie.